Adesso è finito lo sfogo, vedete, la vena che fa Possiamo donare un mini pecca, un mecca, come si suol dire L'unica pecca, anzi, l'unica mecca Ciao a tutti Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video di questo nuovo gioco che avete visto dal titolo Siamo su Clash Royale, l'ho aspettato tanto perché potevo già registrarlo E che ci gioco già da un po' a Clash Royale Potevo già registrarlo con Bluestack ma ho deciso di aspettare a uscire per il telefono Lo registrerò comunque da Bluestack finché non imparo a registrarlo bene dal telefono Perché da telefono non riesco bene a registrarlo Ma volevo semplicemente avere la possibilità di giocarci in qualunque momento A letto, in bagno, per poter progredire anche quando comunque sia non ce la faccio Di modo da poter portare contenuti sempre più qualitativi Mentre giocando giustamente da Bluestack non ci giocavo molto Cioè ci giocavo poco giusto insomma Comunque come vedete ecco la schermata Spero di aver fatto un overlay decente perché in questo momento io ho due bande nere elate Quindi non vedo cosa c'è sotto Cioè non vedo, non so cosa ci sarà sopra Quindi spero di aver fatto un bel lavoro Come vedete ho 2526 gemme perché Io ho iniziato a giocare a questo gioco Ci sono due carte fondamentali per progredire più facilmente Poi lo staremo a vedere perché ci sono anche persone che progrediscono senza Però io ho progredito fino adesso senza E voglio finalmente darmi uno smacco Ovvero aprire questa cesta L'ho aperta dei minimi L'avrei aperta anche se non avessi registrato Anche se non avessi portato all'ash Royale sul telefono Sì su YouTube Avrei comunque aperto questa cesta da 2500 gemme Sono 20 euro Sì ho deciso di rimettere che lavorando Ho dei soldi da poter spendere E li spendo per fare cose che mi divertono Quindi andiamo prima ad aprire la cesta E poi andiamo a fare un paio di partite Tra l'altro il primo unboxing Cioè io parto boom unboxing Pam 2300 Quindi c'è andata bene Un'epica nuova Un'epica nuova Un'epica nuova Un'epica nuova Ancora non ho trovato il principe ragazzi Che è la carta What? Ma non ho trovato il principe Cioè la carta fondamentale Che è una delle carte più forti del gioco E sta anche nerfata È il principe Io sono riuscito a non trovarla Vabbè dobbiamo ovviamente upgradeare le carte Che abbiamo trovato Perché giustamente se non l'upgrade Non sai nessuno Upgradeiamo un po' le carte E intanto ho una pozione nuova Già da potenziare È che spendere i soldi adesso Mi scoccia Perché non so realmente Quali carte merita potenziare E quali no Il traghetto ho visto Che lo usano anche ad alti livelli Quindi lo potenziamo Perché c'è questa super opzione ragazzi Che ci permette di guardare Le partite tra virgolette Dai migliori giocatori Che ci sono a momento del mondo Vedete Ranked 30 Vuol dire che è il trentesimo al mondo Ad esempio Il prince Il cavaliere Vedendo che non lo potenziano Al momento Mi risparmi un po' di soldini Poi molto probabilmente Aprirò un'altra chest Da 20 euro Ma perché ripeto Lo voglio aprire io Quando sarò in arena 5 Più o meno Perché ovviamente Almeno ho tutte le carte Di vedo arena lì Allora ragazzi Questo taglio un po' improvviso È dettato da un fatto Allora Io volevo aprire un'altra chest magica E fare un'altra cosa In più Le partite che ho fatto Non mi piacevano molto E in più Volevo parlare un po' Delle impostazioni Che avranno i video Di Clash Royale I video di Clash Royale Ragazzi non saranno Proprio senza tagli Però magari Registro delle partite Tipo 3 partite Magari 2 vanno bene Una va male Sostanzialmente le partite Saranno senza tagli Perché cercherò di parlare Di più possibile Che un gioco di carte Fatto con i tagli Non si capisce un cazzo Perché dopo le tue scelte Voi che vedete il video Non le capite le mie scelte Perché magari vedete un taglio E avevo altre carte in mano Quando ho fatto determinate scelte Magari poi Criticate cose che non avete visto Giustamente magari Quindi i video saranno senza tagli O meglio Tagli Quando è dovuto Se sto zitto 20 secondi Tagli ovviamente Ma il gioco in sé Dovrà essere più o meno Senza tagli Ora arriviamo ad un altro Super opening Che è questa silver chest A caso Ma non ce ne frega niente Tanto abbiamo la magical chest Perché dobbiamo trovare Un principe ragazzi Un principe Che hanno tutti Io ci perdo sempre E non riesco a trovarlo Ok la mongolfiera utile I barbari utilissimi Questo Ok Oh Trovo il principe Era ora Oppure Brava Brava Dagliene così Si cazzo Ho trovato tutte carte Utilissime O adesso Adesso Che al fine lo sfogo Vedete la vena Che fa Adesso parliamone Voi avete visto Avevo 6500 gem Quindi sapete benissimo Che come potete vedere Vado al shop Ho speso 50 euro E voi direte Sceppone No No Io ho shoppato Perché io gioco a Clash Royale Già da prima ragazzi E voglio le carte Per giocare io Poi che porti i video su youtube Ok È vero Però non è che shoppo Per portare i video su youtube Shoppo per conto mio Poi ovviamente Se posso portare anche il video su youtube Mentre shoppo Ok Ma avrei shoppato esattamente Uguale Possiamo donare un mini pecca Un mecca Come si suol dire E affattiamo Altra esperienza Adesso andiamo al punto Delle gemme ragazzi Il miglior modo Secondo me Per spendere gemme È tenersi Gli slot liberi Quindi in pratica Secondo me Lo scopo è levarsi L'argento dei coglioni Fino ad avere tutte le chest Più di argento Ovvero oro Big chest Crown chest No crown chest Non si può trovare Magical chest Super magical chest Perché trovate tutte le può trovare Quindi la cosa migliore È spendere gemme Per levarsi le chest inutili Dalle palle Adesso però ragazzi Andiamo a farci un mazzo Con le carte Che abbiamo trovato Giustamente Allora Facciamo delle piccole strategie Ragazzi Allora questa fa un botto Di danno a tutto Questa shotta tutto Quindi la mettiamo Per ammazzare la roba Poi mettiamo due cose Che vincono da sole Ovvero la mongolfiera E lui Poi mettiamo una contro aerea Ovvero gli arcieri a basso costo Una contro sciame Che è la freccia Poi dobbiamo mettere anche qualcosa Tipo la fireball Tipo una chiusura Fireball E la mettiamo Al posto di loro Poi mettiamo una cosa Molto molto Forte Ovvero Appliediamolo anche Il barile Perché il barile Il barile lo mettiamo Per trarre in inganno I nemici La strategia è Tirare il principe Da una parte E una mongolfiera Dall'altra Di modo che lui Debba contrastare Su uno dei due fronti Perché non è facile Contrastarle con una carta sola Ovviamente ragazzi Non sono un pro Quindi non sono praticamente Nessuno per darvi dei consigli Probabilmente potete fidarvi E non La strategia sarà Attaccare da un fronte Con qualcosa Tipo magari adesso Lui butta qualcosa No Lui non butta niente È arrivato a decimare Dove ritirare i barbari Lui sarà costretto A fare qualcosa Contro i barbari Quasi per forza Una witch Attenzione Una witch Importante Perché lui dice Di attaccare da sinistra E non di contrastare A destra Oh Attenzione Questa è importante Come è mossa Importantissima Ragazzi Perché vedete La sua torre è già andata E non so È stata una scelta buona Per lui Anche perché adesso Tiro il goblin bar Redietro di lei Sperando Intanto lui Non ce la faccia Spaccarmi la torre Tanto La sua torre qua giù Ha già preso Tantissimo danno Vabbè E io ho perso Una torre È stata una torre pari Però la sua ragazzi Qua ha già preso Del buon danno Tanto tanto danno Posso giocarmela Perché lui non vorrà Mai perdere anche Questa torre qua Quindi se adesso Io attacco verso sinistra E lui mi tira La difesa Ma fatto adesso E io tiro un principe qua Molto probabilmente Il principe farà Un casino di danno A quella cavolo Di torre qui Perché se adesso Parte la carica E lo colpisce Pam Meno 500 diretto Che non se lo fa Non se lo mando A far dire Insomma Il mecca invece Che il mecca Non so se si chiama Mecca davvero O l'ho inventato io Mecca è mini pecca Mecca E niente Adesso il mini pecca Farà un bordello di danno Però ce lo possiamo permettere Perché tanto Non ce la fa buttare Giù la torre lo stesso Ma più che altro Ne tiriamo questo E bisogna vedere lui Come deciderà Di contrastare questa Perché Se lui non contrasta questa Molto probabilmente perde Perde e basta Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' Ok Morta quella ragazzi È andata Vedete ho già vinto No Non ho ancora Ah beh ho vinto E con la fireball in mano Vedete Ho fireball Fulmine E il barilotto Quindi vedete L'ho messo in condizioni Di dover difendere E attaccare Perché altrimenti Era alle strette Non poteva difendere Perché altrimenti Perdeva l'altra torre Non poteva attaccare Perché altrimenti Perdeva la partita Ha deciso di fare La cosa più giusta Forse Cercare di vincere Prima vincessi io Però è stata veramente dura Abbiamo superato le 1000 coppe Ricordiamo 1100 coppe Avevano in arena 4 E se io Forse Voi vedete Perché ho messo 4000 gemme Te ne bastava una Per fare quel pack opening Ma avendo tutte le leggendarie Perché con Più o meno Con quella cifra Hai tutte le leggendarie E le epiche Di quelle Di quella arena Adesso aspetto ad arrivare Non in arena 4 Ma bensì in arena 5 Prima di comprare un'altra Almeno posso già fare Tutte le epiche Anche di quell'arena lì Vedete adesso Pam 18 gemme E mi levo Questa cesta inutile Poi aveva trovato un mecca Che comunque non è mai male Però mi sollevano cesta inutile Adesso di nuovo Siamo contro uno Livello 6 Con cui anche il livello Conta comunque Ci prepariamo già La nostra orda di barbari Attenzione Tira quello Adesso lo facciamo partire Tac E tiriamo i barbari adesso Ok vedete 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 Tiriamo anche le frecce Per sicurezza Perché vedete Quello cosigno lì rompe i coglioni E niente Siamo pari di nuovo Abbiamo usato tutti 10 mana Adesso io posso decidere Di fare due cose O controattaccare O attaccare Posso anche tirare un barile Di qua E volendo ragazzi Anzi un barile di qua Perché secondo me Lui a destra non ci va Pesco il principe Perché dovete anche Tenere d'occhio parecchio Quello che voi pescate ragazzi Vedete Ha tirato il contro Il contro principe A sinistra E io gli ho tirato Il principe a destra poi Cioè vedete Tutto vedete adesso Il principe almeno Un po' di danno lo fa Vedete Insomma 500 danni Non pochissimi E in tutto questo Siamo parimana Più o meno Anche se adesso Questa mi farà il culo Ma adesso io faccio così Vedete Lui ha tirato il balun su di me Io tiro il balun su di lui E il suo balun farà Tra l'altro un botto di danno Forse ce la fa anche Spaccarmi la torre Oh ce l'ha fatta uguale Vabbè Ovviamente ragazzi Il balun è Il balun è questo Ovviamente non questo per forza Adesso la sforza La sua torre No non l'ho rotta Ma ci andrò vicino Perché adesso io faccio così Ovviamente adesso Lui prende un botto di danno Sto cosino qua Tiro i barba I barbari I barbari a sinistra Adesso tirerà qualcosa Per spaccarmi la torre del Nexus Vediamo così La torre quella principale Tirerà qualcosa di sicuro Per rompermela forse No invece non gliene frega Assolutamente niente Quindi io aspetto A questo punto E a 7 mana Anzi a 8 mana Tirerò il L'orda di goblin A sinistra Ok Orda di goblin a sinistra E aspetto Vediamo quanti anni faccio Prima con l'orda di goblin Vediamo un po' Vediamo un po' Ho fatto comunque i miei sporchi Boia Tantissimi danni in realtà Non pensavo di farne così tante Adesso tirerò il principe A destra E mi preparo per un Controattacco Da sinistra Perché se lui fa Qualcunque altra cosa Vedete comunque si Attenzione Tiriamo le frecce Oggi spacchiamo anche la torre Oh no Cosa No no Vabbè Comunque la torre la spacco Tiriamo un fulmine qua Che spacca tutte e tre le infrastrutture In teoria Ok ok Bravissimo Vedete il fulmine è utile Tra virgolette Cioè tra virgolette Il fulmine è utile Punto Attenzione Ok No anche quella viva Vabbè tutte vive le sue Comunque Vabbè adesso facciamo anche così Perché mi sarei anche un pochino Rotto il cazzo Come vedete tra l'altro Ho avuto fortuna Perché il mio principe Non ha dato tempo al suo principe Di fare la corsa Siamo pari L'unica pecca Anzi L'unica mecca L'unica fortuna mia Ragazzi È che Più semplicemente La sua torre Ha pochissima vita Vedete Adesso basta E tiro una fireball qua Tirata per bene Senza sprecarla Perché più che altro Rischiamo magari di perdere la partita Quindi adesso tiriamo Questa fireball qua Questa peggio di frecce qua Aspettiamo due secondi Di un quinto di tempo Vedete E ragazzi Questo gioco è super tattico Comunque l'unica certa ragazzi È questa Praticamente la strategia Funzionante È che tu devi sempre Cercare di Contrastare il tuo avversario Ma facendo rimanere Quello con cui tu hai Contrattaccato in campo Perché così Voi avete lo stesso mana Ma il bordo Mi suol dire Il tavolo È dalla tua parte Perché le strutture Hanno la stessa vita Delle sue Avete lo stesso mana Avete le stesse carte in mano Ma tu hai delle truppe in gioco Quindi se lui vuole contrastare Quelle truppe Che erano già in gioco da prima Dovrà usare delle truppe nove Mentre tu Userai le truppe nove Per il contrattacare All'altra parte Tutto una roba incredibile Ragazzi Comunque ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate 2000 Mi piace per questo gioco Che a me fa impazzire Quindi io lo voglio portare Poi fate voi Comunque condiviate il video Commentateci Le cose che pensate del gioco E cosa avreste fatto Al posto mio Iscrivetevi al canale E passate le mie social Che sono qua Nella descrizione Ci vediamo appunto Al prossimo video Per questo video Era tutto Ciao Nini